ciao a tutti colors una piccola comunicazione imprevista che vi penso pubblicherò subito avevo deciso di fare un'unica lunga pausa a partire dal prossimo video ma siccome abbiamo deciso di pubblicare questo video il 20 di agosto con l'altra persona sorpresa con cui collaborerò volevo avvisarvi non vi disiscrivete da oggi fino al 20 agosto entriamo ufficialmente in pausa poi dopo il 20 forse vado in vacanza non è ancora detto quindi dita incrociate per me quindi entreremo nuovamente in un'altra piccola breve pausa fino ai primi di settembre non vi disiscrivete non vi perdete questa collaborazione anche perché una delle vostre richieste è davvero davvero molto figa a presto